Parliamo dell'Inter, niente turnover a Monza e gioca Lautaro e questa è, vedendo la formazione dell'Inter, l'Inter gioca domani a Monza, una sorpresa perché abbiamo letto tutto il giorno, pezzo per pezzo, il turnover di Inzaghi e cominciava proprio da Lautaro, no Borrelli? Eh sì, però Inzaghi non è uno che stravolge la squadra, è successo una sola volta col Benfica, l'anno scorso era una settimana particolare tra Juventus e Napoli. Vediamo la formazione di domani. Qui ci dovrebbero essere quattro cambi in questa possibile formazione perché poi aspettiamo sempre l'ultimo giorno, quindi due cambi in difesa, De Vrai e Carlos Augusto, quindi Acerbi e Bastoni soprattutto che era partito per la Nazionale che doveva fare massimo una partita e poi ne ha dovute fare due e quindi potrebbero riposare Acerbi e Bastoni dietro con Carlos Augusto che ormai è diventato specialista anche di quel ruolo, De Vrai che ha sempre giocato lì e a centrocampo due cambi, frattesi a furor di popolo invocato da tutti e poi Aslani perché... Ci ha salvato la vita nei commenti martedì e mercoledì. Infatti e poi c'è la Noglu perché come Bastoni era partito per le nazionali e non era al 100%. Quindi già ci sono questi quattro cambi, Inzaghi non si fida a cambiare anche l'attacco ma c'è un altro motivo perché in attacco Lautaro e Taremi sono tutti e due tornati per ultimi, quindi non è che tu togli Lautaro per mettere uno che è freschissimo sono tutti e due che hanno fatto, uno con l'Iran, l'altro con l'Argentina, 90 minuti in martedì sera. Quindi tra i due, magari lasciamoci qualche piccolo dubbio ma... Perché Arnautovic non trova spazio in questa squadra fin dall'inizio. E perché il valore di Arnautovic è nettamente diverso da quello dei primi tre, che sono Durama, perché non c'erano offerte quindi Arnautovic e Corea sono rimasti più per il contratto, anche se Arnautovic e Corea sono da distinguere perché Corea l'Inter ha provato a venderlo fino a ieri, ma non per modo di dire, ieri è mercato turco e l'altro giorno mercato greco. Mentre Arnautovic diciamo che è molto inserito all'interno del gruppo, però a livello di campo non è più quel giocatore che sottoporta, insomma, finalizzava. Comunque, rivedendo questa formazione dell'Inter, io non capisco davvero, e vado contro in Zagli, la scelta di insistere su un Lautaro che secondo me in questo momento della stagione non è utile alla squadra. Forse sono parole un po' troppo forti. Beh, io non l'ho visto nelle prime tre partite. No, lui dice tecnicamente più che caratterialmente, perché lui è sempre utile dal punto di vista. Caratterialmente fondamentale, è chiaro. Però dal punto di vista tecnico-tattico, in queste prime tre partite, soprattutto a Genova, l'ho notata questa cosa, l'Autaro non è l'Autaro dell'Azaro. Genova aveva fatto dieci giorni di vacanza. Sì, ma anche con il Lecce in casa non era il solito l'Autaro. Con l'Atalanta è rimasto più in ombra. Con l'Ecce non c'era. Quindi, secondo me, Tariemi dal primo minuto non è una follia domani. Questo però vorrebbe dire anche, però insomma, diciamo che Inzaghi ha rispettato, mettendo l'Autaro, una gerarchia, diciamo, della formazione ideale principale che testimonia, non so se siete d'accordo con me, nella mente dell'allenatore. Io poi devo dirvi la verità, io ve lo confesso. A me è un dibattito troppo, diciamo, esteso su come giocheranno senza aver visto la partita, aver analizzato come hanno giocato, mi appassiona relativamente. Relativamente, è giusto così. Se voi mi appassiona, siamo qui fino a mezzanotte e parliamo solo di questo. Voi si ricomincia a parlare della Juve, che già mi avete annoiato su questa storia qua dell'Inter. Ma no! Stiamo lì a... L'Inter ha già... Ma gioco con quello, gioco con quell'altro. Poi domani gioco con quello, con quello... È un pre-partite, non è un pre-partite. No, ho capito. Però, per esempio, possiamo dire che oggi... No, però è un pre-partita, come sai... A parte che in TV gli hai pre-partita, con molti li abolisco perché non fanno a sconti. Però, insomma, fanno a sconti post-partita. Però, stiamo al dunque. Tanto che Inzaghi non parla nemmeno più alla vigilia. Beh, fa bene. Però adesso, stiamo al dunque. Al dunque è però che se vogliamo vedere in controluce qualcosa, è un allenatore che, di fronte a un turnover quasi obbligato per gli impegni... Sì, c'è il mangio. Non so se c'è ancora la grafica che abbiamo fatto in settimana degli impegni dell'Inter fino alla prossima pausa della Nazionale. Se la trovate, gentilmente ce la date e la mandiamo. Tema il Monza. Cioè, non si fida di andare... Eccola qua. A Monza, poi c'è comunque un partitone. Mercoledì, se non sbaglio, in casa della favoritissima. Un po' di questo parliamo invece. E della Champions, che ha sfidato nella finale di Istanbul, diciamo, non tanto tempo fa. Manchester City. Poi c'è il derby. Poi va a casa dell'Udinese, che quest'anno è una squadra in salute, perché momentaneamente... Sette punti. Alla Castilla, poi riceve comunque una squadra che ha una storia, perché è un blasone sempre importante. E poi va a casa di un'altra squadra che quest'anno, contestazione a destra, contestazione a sinistra... Però viaggia. E prima in Castilla, rischia di essere una delle rivelazioni del campionato. Quindi aspetta un periodo difficile. E mi sembra che l'Izaki del Monza non si fida. No, no, ma non la considera la più facile di queste partite. O dei suoi ragazzi. Prima della Champions. Non lo so, chiedo. Infatti ne cambia tanti, eh. Non è veramente per quello questa domanda. Allora, lui viene dal suo primo campionato vinto, non sottovalutando nessuno. Quest'anno però c'è una piccola variazione. Il fatto che il mercoledì, oggi il Manchester City è tornato a vincere, doppietta di Haaland, che ha già segnato in doppia cifra la stagionale, cioè un giocatore strepitoso... E si va a giocare là. E si va a giocare là. E qualcuno lo paragonava a Vlaovic. Perciò, dico, per come è stata gestita l'Inter l'anno scorso... E Vlaovic c'è un problema di colore dei campionati. No, ma dico, per come è stata gestita l'Inter... Già fare quattro cambi di cui due a centrocampo, perché oggi ha provato sia Frattesi che Barella, non lo diamo nemmeno al cento per cento i quattro cambi. Tre o quattro. Secondo me è già un turno per questo. Cioè, puoi cambiare più di mezza squadra, non ci sta. Io sono d'accordo con Inzaghi nel dire, io non sottovaluto. Io solo sul Lautaro sono d'accordo con Matteo sul Lautaro, ma io ero addirittura per un'altra gestione. Siccome oggi, come ha detto Ancelotti, i giocatori devi mandare in vacanza una settimana ogni tanto così, perché se non li manda l'allenatore, non li manda sicuramente nella UEFA, nella federazione, perché si gioca sempre, non è previsto il riposo. Però guarda che ha una cosa. Allora, io dico, quando lui è tornato alle vacanze il 6 agosto, io ti faccio fare una preparazione di tre, quattro settimane, disinteressandomi che intanto inizia la stagione ufficiale. Io però il 10 settembre ho Lautaro al 100%. Invece no, perché c'è la partita e non posso pensare, allora ha giocato la prima e poi la seconda si è fatto male, la terza tornava dall'affaticamento e gioca di nuovo, poi parte per la nazionale. Così diventa difficile la gestione fisica. Matteo doveva parlare e poi Francesco. Io sono d'accordo con Michele. Secondo me, Lautaro, tu dovevi recuperarlo prima dell'inizio della stagione. Invece tu, Lautaro, all'inizio della stagione non l'avevi. L'avevi al 30%, l'hai buttato subito nella mischia. Però poi dall'altro lato c'è da dire, Matteo, che per il gruppo, ma anche per gli avversari, quando il Monza deve marcare uno che si chiama Lautaro o si chiama un altro, Lautaro stanno due persone sopra. Però Michele, scusami, io mi immagino comunque il centrale del Monza, che sia Caldirola, che sia chiunque, che deve marcare Taremi. Non penso che sia più leggero di cuore nel dover marcare un giocatore ma anche perché quest'anno si giocano dalle 51 alle 69 partite. È una corsa di resistenza. Quindi non ti puoi permettere di giocare sempre. Francesco, ti ricordo ancora una volta, Non per essere estenante, ma perché Taremi ha numeri superiore all'autor ad oggi. Ma Taremi è un mio pubblico. Poi ripeto, parliamo di un giocatore che ha giocato in Portogallo, ma non è che il Portogallo sia... Taremi è fortissimo, sono d'accordo con te. L'altra cosa è, guarda caso, i cambi vertono, soprattutto sui giocatori che hanno giocato la finale con il City anni fa, due anni fa. E secondo me questa è una pratica che va analizzata in quel senso. Lui capisce che probabilmente domani a Monza l'attenzione di questi giocatori qua indiziati a stare in panchina al posto per altri è probabilmente dovuta al fatto che la testa di questi qua ha capito che è là. Perché vai a giocartela lì. Ed è la prima della nuova Champions, è la nuova stagione della storia che vuole fare meglio. A proposito di Champions, è finito la prepartita? Dobbiamo dire qualcos'altro. C'è la pubbaggia di qualcuno. No, possiamo dire che invece non ha parlato in Zaki, ma ha parlato onesta, che ha detto sì. L'allenatore del mondo. L'allenatore del mondo. È l'ex campione del Milan. Anche il campione del Milan. No, ha detto è vero che Galliani mi vuole bene, perché a Monza c'è questa voce. Dice no, ma tanto tu puoi pure sbagliare perché sei venuto qua perché sei raccomandato. Allora nel calcio comandano i risultati. Galliani mi vorrà pure bene, ma vuole più bene al Monza di Milano. E allora anche Galliani sbaglia? No, no. I risultati, il calcio è fatto solo di risultati e basta. Di coppe, di trofei. Il Monza viene da un 2-2 a Firenze dove vinceva 2-0. Non è che ha fatto la passeggiata. Tu sei stato ovviamente nella vera sede del Milan, mica questa che sembra la casa del buon riposo, inviaturati, no? Tutti i ricordi che c'erano le mensole. E io mi divertivo con grande rispetto e chiedevo scusi, signor Galliani, ma dov'è che mettiamo eventualmente la prossima Coppa? Fedele, non si preoccupi. Il Falegname è già pronto a preparare un'altra mensola. Tu non sei mai stato inviaturati. È una cosa che ti mancherà sempre nella vita. E quindi è solo una questione di risultati e basta. Allora, ci interrompiamo per la pubblicità. Ritorniamo. Abbiamo gli ultimi 15 minuti. Parliamo di...